Nunzio Di Pietro, commerciante di 60 anni, titolare dei supermercati Sisa, è stato aggredito a colpi di spranga a Gela. L'uomo è stato rapinato sabato nel quartiere Macchitella, nel comune in provincia di Caltanissetta, da alcuni malviventi mentre stava per fare rientro nella sua abitazione. Lo hanno colpito alla testa con delle spranghe, poi gli hanno portato via il borsello all'interno del quale era contenuto denaro in contante e altri oggetti personali, tra cui le chiavi delle attività commerciali. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in codice rosso per un trauma cranico. È intervenuta la polizia che sta cercando di identificare gli autori dell'aggressione. Non si è fatta attendere la solidarietà di Domenico Lorefice, presidente degli industriali Nisseni, che ha voluto esprimere la massima solidarietà a Nunzio Di Pietro per quanto accaduto, portando la vicinanza di Sicindustria Caltanissetta alla famiglia. Il commerciante fortunatamente è stato dichiarato fuori pericolo dai medici. Assistere ancora oggi a episodi del genere, continua Lorefice, è assurdo oltre che impensabile. Le indagini sono in corso e io confido nell'operato delle forze dell'ordine affinché riescano a trovare responsabili di questo gesto inaudito e al tempo stesso auspico di riuscire a definire con le istituzioni un percorso comune per evitare che episodi come questo possano ripetersi in futuro. Non è più possibile, conclude, rischiare la vita in questo modo.